dove inquadrimo la gente che grita 2 Fingershow 2 Fingershow 2 Fingershow 3 Fingershow sarebbe come il prodotto del primo novembre ma si è una cosa costa per questo lavoro non è sempre come voglio un passo Pfff, pfff, pfff 2 Fingershow, quindi le dita su quindi a mio 3 tutti le dita su e gridate 2 fingershow 2 fingershow tutti con le dita su 1 2 2 fingershow un'altra giornata di 2 fingershow si registra da qua, bello e come al solito ci abbiamo Mille contenuti, mille robe da far vedere Oggi vi spiegheremo come funziona questo frullatore Guardate Ma l'abbiamo fatto già la settimana scorsa Non l'abbiamo già fatto Non abbiamo più contenuti Abbiamo finito i contenuti Anche una settimana abbiamo finito i contenuti Non abbiamo mai avuti Quindi sarà così per tutto l'anno Ok? Contenuti rovi Espansivi Contenuti Espansivi Contenuti Espansivi Benvenuti ragazzi Questo è il nuovo programma Il Two Finger Show Dove andremo a vedere Pensate La patata di Nicki Minaj Che è Two Finger Show Baby È iniziato il Two Finger Show È partito male ragazzi Così in delay È iniziato il Two Finger Show Allora Allora Iniziamo a spiegare Ai nostri amici a casa Che cos'è il Two Finger Show Non lo sappiamo nemmeno a noi Ancora che cos'è il Two Finger Show Infatti Però c'è questa macchera Esatto Che l'ha già rotto i coglioni Già Ma noi andremo a vedere Com'è fatto il nostro studio Il Kermadillo Studio Venite 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 Vi faccio vedere Ma prima non ci vediamo Un video per spezzare Ah già subito il video così E non vuoi spezzare un attimo Ma io volevo partire a miglio Vabbè però guardiamo un video No vabbè Allora facciamo così benissimo Io voglio guardare il video Vado direttamente Non me ne frega niente Ma me ne frega niente Lo vado a farli Io capisco solo Dico sì Dico sì Ma capisco solo Ma in realtà Non me ne frega niente Dico sì Dico sì Ma capisco solo Ma in realtà Non ritornati a Two Finger Show Guarda l'altra che ha Ci andiamo a prendere un caffè in schiena Tipo camera caffè Simuliamolo Tu puoi fare il simulatore di camera caffè Tu ti metti la Riprendi noi Così abbiamo la doppia in quadratura Non si può fare Non si può fare Perché c'è sempre il solito cazzo di problema Che non si svuotano i fondi Comunque c'è il metodo per evitare di vuotare i fondi E questo vi insegnerò Sarà la prossima puntata interamente dedicata No ma sei sicuro che vuoi mostrarla a tutto il mondo Basta fare così Shakerare Shakerare la macchinetta con avidità Ho paura di dire che Questa tecnica l'ha già utilizzata qualcun altro Tanto che non si riesce nemmeno più a aprire il cassettino Perché quando tu muovi i fondi I fondi si incantrano Sei un cazzone Non si riapra più Anzi facciamo così Mentre noi Cerchiamo di chiamare il numero verde Su questa macchinetta Ci vediamo intanto Un cazzo Di video Comunque io volevo la macchinetta che faceva la trippa Ti meriti che non usciva Ti meriti la cialda pucherellata Ma perché viene a rompere il codice? Hai una moneta? Guarda che bacia Alde Capite Dai vai Che stiamo registrando Stiamo lavorando Una moneta? Dai Io vorrei il panuozzo Il panuozzo Il panuozzo è una cosa molto importante Che ordineremo da Vai Allora Volevo ordinare tutti i panuozzi E adesso lo chiamiamo subito Federica Federica Quanta maionesta Due pomodoro e mozzarella Sta mangiando In quadra Federica In quadra Apri la bocca Cellulare acceso Mangia mentre lavorate Ah Farmi via Farmi via Bene Brava Allora Ci dai il numero del panuozzo? Chi vuole il panuozzo? Potete scrivercelo su facebook.com Slash hipopti di italy Che panuozzo volete? Che panuozzo vuoi? Ammo, due di mozzarella Sì? E nient'altro Tonno no? No, no, senza tonno Noi siamo Mozzarella Perché esso non vogliono Far la dieta Sì, sì Morissero Poi Una Con Scamorza Speck E porcini E melanzane E peperoni Non fare come Flavio Non fare come Flavio Ma la smetti di mettermi In mezzo sempre L'altra volta Questa qui è mitica L'altra volta Gli ho detto Flavio A proposito Io ti dico il mio panuozzo Il mio panuozzo è Provo l'affumicata Speck e porcini Eh, nient'altro? Sì, nient'altro Ma gli altri dicono Pumodano mozzarello Scusa, provola? Provo l'affumicata Speck e porcini Niente di più E l'altra volta Esattamente Flavio fece la stessa scena Che ha fatto adesso Ricky Eh, nient'altro? E gli ho detto Sì, dai Facci mettere peperoni Zucchine E delle melanzane Che ne dici? Un altro Guarda Tu sai che ho ordinato Il panozzo Veramente così? Con il peperoni Esatto E' ordinato Il panozzo Di quanto così? E va Però eh E di tutta risposta Flavio cosa ha detto? Pensavo che non scherzassi Appena pronti Grazie Mi quant'è il conto Signora? Il conto? Sette per due Riporto uno Quattro cinque Sei panzerato Va bene Va bene Grazie E anche oggi Una puntata di Made in Italy Two Fingers Anzi no Two Fingers Finisce qui Con quei mattacchioni Dei Two Fingers Pensate Che loro Che loro Fiano tutto Tutto per un cazzo Fiano tutto per niente E loro Aspettate Questa cancella Che non sapevo che cosa